Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo una maglia per la stagione che deve iniziare, la 23-24. Questa l'avrete riconosciuta, è la prima maglia del Manchester City in edizione Player. Grazie per la visione! La maglia è veramente molto bella. Nella mia classifica prende 4 stelle. Io la preferisco a quella dell'anno scorso. Ditemi nei commenti se siete d'accordo o meno. Il costo lo vedete qui sopra? Ecco, su questo non possiamo discutere. Un costo estremamente basso e conveniente. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie. Una nota particolare, fate attenzione alla taglia delle maglie Puma perché vestono veramente poco. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, vi chiedo di lasciarci un grosso like ed iscrivervi al canale. A voi non costa niente, ma per noi fa tutta la differenza del mondo. Grazie, alla prossima! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione Player. Che vedete è la prossima!